Vittoria in trasferta per il volley Arezzo contro Cascine Volley Empoli. Nonostante il risultato dell'andata in casa dell'Arezzo, è stata una partita a senso unico in favore della formazione Rosso-Blu. L'Empoli nella propria palestra non aveva mai perso contro nessun'altra squadra. Il primo set si apre con un buon ritmo di Capitan Rossi e i compagni che riescono sin da subito a mettere in difficoltà la ricezione del Cascine, chiudendo il set senza particolari difficoltà. Nel secondo e terzo set si ribalta la situazione, la formazione avversaria cresce in fiducia e in prestazione, annullando ogni offensiva della formazione aretina e portando il risultato sul 2-1 in favore della squadra di casa. Il volley Arezzo non può permettersi passi falsi e lo sa, il quarto set ritrova compattezza e lucidità necessarie per riprendere in mano la partita e si aggiudica il set per un parziale di 25-22. Il quinto e ultimo set vede entrambe le formazioni rispondersi colpo su colpo, ma la voglia di vincere degli aretini è troppo superiore. La vittoria Rosso-Blu per 15-1 sancisce la fine della partita di oltre due ore, riuscendo a despugnare un palazzetto proibitivo per tutte le altre squadre. Dopo i dovuti festeggiamenti la testa è già indirizzata verso Certaldo, uno scontro diretto cruciale della stagione per l'accesso alla Serie C.